Mi diria che il futuro della lingua piemontese è infinito, perché la lingua che vende al cuore resta sempre una pera, un fondamento per il Piemonte e per tutta l'Italia. Piemex è uno strumento innovativo che muove l'economia del nostro territorio. È uno strumento che aiuta in parte a risolvere le problematiche delle imprese, quindi mancanza di liquidità, difficoltà di accesso al credito, ma anche quella di riuscire a trovare nuovi clienti affidabili o di riuscire a recuperare i propri crediti, ma anche e soprattutto ritornare a dare un po' di fiducia e di speranza agli imprenditori di oggi. Piemex è un mercato aggiuntivo che si somma a quello tradizionale. All'interno di questo mercato, di questo circuito, le imprese riescono a trovare nuovi clienti affidabili e nuovi fornitori di fiducia. Di fiducia perché la base su cui si fonda il nostro circuito e anche gli altri circuiti uguali al nostro sono proprio valori come fiducia e reciprocità. In effetti le imprese si fanno proprio credito reciproco tra loro. Come funziona? Funziona in modo estremamente semplice. Se io produco un bene che serve a una seconda impresa e questa seconda impresa produce un bene che serve a una terza impresa e questa terza impresa a sua volta soddisfa quelle che sono le mie necessità riusciamo praticamente a scambiarci queste cose tra di noi e a non utilizzare l'euro ma semplicemente a mettere a disposizione quello che sappiamo fare che fondamentalmente è la nostra ricchezza perché poi la ricchezza reale è quello che sappiamo fare, è il lavoro che tutti i giorni noi facciamo. Siamo tutti appassionati di territorio, siamo tutti appassionati di tematiche ambientali eccetera eccetera ognuno con la sua passione, abbiamo unito queste passioni e abbiamo cominciato a ricercare. Nella nostra ricerca siamo entrati in contatto con quattro ragazzi in Sardegna che avevano messo a punto un modello di appunto un circuito comunque di aziende e quindi un modello di credito reciproco fra aziende e siamo entrati in contatto con loro, abbiamo studiato il loro sistema, abbiamo studiato il loro modello e con loro abbiamo deciso appunto di portarlo qua in Piemonte. Se probabilmente dovessi spiegarlo a un bambino direi che deve semplicemente dire che cosa sa fare e sicuramente qualcuno ha bisogno di quello che lui sa fare e può acquistare quello che gli serve proprio con quello che lui sa fare perché ognuna delle persone che lui ha intorno mette a disposizione quello che sa fare. Quindi le persone tra di loro si scambiano poi fondamentalmente la loro professionalità. Questo è il primo strumento di mutuo credito tra imprese piemontesi. Esiste in altre 11 regioni, anzi siamo 11 in realtà circuiti, quindi in altre regioni. Il Piemonte, Piemex, non è solo Piemonte ma è anche Liguria. Sapere di fare un lavoro utile, era il sogno di tutta la vita quello di poter fare un lavoro dove comunque alla fine della giornata sai di aver fatto qualcosa di utile per qualcuno. Questo era sicuramente il sogno di una vita per quanto mi riguarda. Sai che stai facendo una cosa bella per il territorio perché stai muovendo seriamente l'economia che in questo momento decisamente stagna. Quindi il bello comunque di questo lavoro è sicuramente quello che la sera ti guardi allo specchio e ti riconosci e soprattutto riporti quelli che erano vecchi valori secondo me è che un po' la competitività ad ogni costo aveva dimenticato, ci aveva fatto dimenticare. L'Italia che cambia per me è una popolazione più consapevole, più informata, più attenta e più volenterosa nel voler essere utile al proprio territorio e alle persone che ti stanno intorno. Partendo dal presupposto che anche solo una questione meramente egoistica del tipo se muoiono gli altri prima o poi muoio anch'io, comunque può portare a qualcosa di buono perché è sicuramente una fonte di ispirazione per il cambiamento.